A Cittanova, dove si tornerà alle urne la prossima primavera, probabilmente coinciderà con le elezioni europee del 26 maggio, partiti e schieramenti politici scaldano i muscoli e se nel centro-sinistra appare che il candidato a sindaco è Francesco Cosentino, sindaco uscente, messo in dubbio per un periodo di tempo, si aspetta ora l'assenso del PD, componente della coalizione Cittanova Cambia, il centrodestra sembra quasi tutto proiettato verso la riconferma del già sindaco Alessandro Cannatà, si attende la decisione della Lega e di qualche altro movimento civico e a questo proposito non escludiamo sorprese, ma a rompere gli indugi è una lista civica guidata da Domenico Antico, avvocato 47enne, che nella serata di ieri ha pubblicato una sorta di manifesto di presentazione e programmatico di quanto si vuol fare per la città. Viva Cittanova Viva è il nome del potenziale movimento politico che si presenterà alle prossime amministrative. Nel manifesto i componenti del gruppo ci tengono a non essere etichettati come schieramento politico, noi non siamo né di destra né di sinistra, scrivono ed evidenziano, noi non apparteniamo ai partiti, noi apparteniamo a Cittanova. Uno slogan che vuole identificare una chiara connotazione civica del movimento con l'intenzione di sparigliare le carte sia del centrodestra che del centrosinistra locale. Antico, probabile candidato a sindaco si è fatto conoscere come portavoce dei No Bull, un comitato di cittadini che ha fatto della lotta alle vacche sacre e i tanti bovini vaganti lungo le strade intorno a Cittanova l'obiettivo principale dell'associazione. Il legale ha le idee chiare su cosa è Viva Cittanova e cosa propone di fare per la città. È un movimento civico, afferma, nuovo, trasversale, che intende dimostrare l'esistenza di un modo diverso di fare politica, ascoltando i cittadini e realizzando azioni concrete che migliorino la vita dei cittanovesi. Il Paese, aggiunge ancora il candidato, sta attraversando un momento molto difficile, tanti emigrano e chi accetta la sfida di rimanere costretto a vivere in una città dove regna la sfiducia, le prossime elezioni rappresentano l'ultima possibilità di cambiamento.